L'investimento mortale di Roberta Fiano sul lungomare di Tortoreto, al di là dell'episodio di Cronaca, pone un problema, una riflessione già in corso da tempo, ossia la velocità dei mezzi sul lungomare Sirena a prescindere dai 30 orari. Beh sì, questa brutta situazione, questo brutto incidente ci deve mettere a pensare anche che sia ora di prendere qualche provvedimento per questa velocità, per soprattutto il periodo della sera, la parte notturna dove le persone prendono a volte questa strada come una pista di corsa e bisognerebbe studiare qualcosa per far rallentare queste macchie, per far capire che non è una pista di corsa ma un lungomare, un lungomare dove ci sono delle attività commerciali, dove andremo a breve a arrivare dei turisti, per cui bisogna prendere dei provvedimenti secondo me.